ben tornati nuovo appuntamento di sos a rizzo tv buonasera beppe marconi ciao fabio nella settimana di pasqua di mantenere questo look molto elegante caldo dai non me lo fa mettere giù mi piace molto questo gilet si ok camicia non si spogli siamo qui dobbiamo raccogliere delle segnalazioni raccolta la segnalazione come le raccoglite ho visto che lei vi girava prima guardava in terra stava cercando di raccogliere non ha trovato niente però ci è arrivata una segnalazione qui da un telespettatore siamo al fuoco boario questa è dovrebbe essere la fontana la fontana diciamo che simili simili vediamo che la situazione sembra più uno stagno così messi acqua putrida pieno di rifiuti esatto è un peccato perché alla fine questo fuoco boario di cui anche in passato no si criticava in realtà mi sembra che stia diventando un parco ben tenuto se eccetto peccato questa ea a parte l'aria giochi che un po fattiscenti sono state anche interrogazioni parlamentari in consiglio comunale e siamo lì siamo lì peccato che questo stagno questo stagno insomma questo non è lo stagno questa è la fontana che è diventata uno stagno fa un po schifo guarda veramente sono tutte queste alghe queste queste non so queste erbe sicuramente che sono o sole forno no 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 pioppi ci sono mi pare comunque sia veramente qui appena arriva caldo veramente ci si sta più dal tanfo eh sì guarda poi la rifiuti rifiuti carte peccato ma non arriva peccato perché è una bella fontana questa è così veramente un peccato ma inizio non abbiamo vocazione per le fontane un po come per i bagni pubblici se facevo il sindaco era un'altra cosa cosa succedeva le mettevano ogni rotatoria più importante le fontane si può hai fatto il vice sindaco vabbè ma non avevo lavori pubblici quindi non potevo farlo il vice sindaco non conta niente ci vuoi dire il vice sindaco è in porta per quelli che sono le sue deleghe ma se l'idea in altri posti non ce l'ha non può mettere bocca là per tutto se non il sindaco il vice sindaco no qui guarda che poi si muove poi mi dicevano dammi soldi e io soldi magari non ce l'avevo per danni allora mi dicevano è inutile dove abbia queste idee vabbè però è molto bello arrivare in una città e trovasse una bella fontana anche di notte illuminata da un'immagine della città molto importante esatto poi va tenuta perché se la tieni così allora forse fai il contrario questa è bella bella grande tanto quel vento adesso vedi come sposta il putrido lo manda tutto dello stesso punto e lì sono ovviamente sabbie mobili non usiamo sapere cosa c'è sotto quindi la segnalazione era era effettivamente fondata quindi facciamo appello appunto a questo punto all'assessore nonché vice sindaco per l'appunto gamurrini di magari mandare qualcuno qua a pulire di solito quando facciamo queste segnalazioni poi intervengono e magari vi diremo tra qualche giorno speriamo di dirvelo sono venuti magari ritorniamo vediamo un po c'è l'acqua adesso la prossima settimana torniamo e vediamo se nel frattempo voi mandateci le segnalazioni a redazione chiocciola non soltanto al vice sindaco ma se riesce a finire un discorso no perché ti accedi troppo ma sto dicendo l'email magari è responsabile anche dei giardini pubblici che intervenga alla svelta visto che piange c'è sempre che non ha i soldi che si muova dai su qui l'email per forza ma sei diventato cattivo col vice sindaco perché vice sindaco ho detto oltre al vice sindaco oltre al vice sindaco oltre al vice sindaco le vostre segnalazioni abbiamo anche la nostra pagina facebook arezzo tv a domani ciao